ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questo prodotto innovativo dicono della sephora è il te primer mask quindi una maschera primer per il make up però in tessuto quindi una maschera da fare in tessuto e prima di iniziare il video però vi ricordo che tanto vorrei sapere un vostro commento e lo sapete alla fine del video come mi sono trovata poi mi raccomando di essere iscritti di lasciare un commento perché se volete partecipare all'estrazione di qualche prodottino scelto da me se non sapete di cosa parlo guardate la fine del video e lo scoprirete allora te primer mask dice di essere una base e make up 5 in 1 maschera in tessuto in fibra di cotone quali sono i cinque usi idrata illumina unifica fissa il trucco e blur ha l'effetto di questo fantastico effetto blur di cui tutti parlano è un filtro di instagram quindi rende la pelle più compatta allora il prodotto è questo qui ok e si pre... ah scusate il prezzo prima di tutto perché la maschera è per un utilizzo e viene 5 euro e 90 però me l'avevano regalata allora il prodotto è questo qui quindi era proprio una maschera in tessuto da mettere sul viso e era super super imbevuta che al punto che è talmente imbevuta che ho conservato tutto il prodotto rimasto ho detto lo metto da parte perché magari per altre applicazioni allora ho fatto un video durante l'applicazione che vi mostro subito così possiamo farci un attimo un'idea un'idea come avete visto fantastica maschera perché è bella bella imbevuta si applica sul viso tempo riposa 3 minuti si rimuove si cerca di massaggiare per far assorbire il prodotto in più e poi in teoria si passa al make up allora l'idea ci può stare per alcune occasioni certo tutti i giorni prima di truccarmi non è che vado a mettere in posa una maschera 3 minuti non avrei tempo però per alcune occasioni l'idea ci potrebbe stare oltre le maschere quelle per idratare la pelle o per curare i vari problemi della pelle anche qualcosa per aiutare a fissare il trucco per preparare la pelle al trucco perché no però come avete visto l'effetto esattamente allora 3 minuti passati quindi andiamo a toglierla è ancora molto bagnata comunque dice di andare a massaggiare il prodotto in eccesso per farlo assorbire e noi lo facciamo non si asciugherà mai cioè sento che non è asciutto ok allora io così dovrei essere truccata quindi ho applicato il mio solito fondotinta che so per certo come funziona guardate qua cioè aspettate che provo ad avvicinarvi è come cioè guardate è come se continuasse a far spostare il fondotinta e la nonna farlo fissare cioè con la spugnetta io lo applico l'ho anche provato a stendere con le mani e non lo fa fissare cioè aspettate guardate che brutto non fa fissare assolutamente cioè continua a spostarlo continua a spostarlo non lo fa assolutamente fissare quindi a me proprio questo prodotto boccio e altra cosa importante perché nella confezione ce n'era tantissimo e quindi avevo provato a tenerlo ma io a questo punto lo butto perché no no cioè il fondotinta assolutamente è il mio solito fondotinta so come si comporta si comporta benissimo ma non non mi permette di applicarlo cioè ovunque lo metto si sposta si continua a spostare non lo so cosa è successo ma durante l'applicazione cioè dopo l'applicazione una volta che ho cercato di far assorbire il prodotto ho cercato di applicare il mio solito fondotinta ma non si non è che non si fissava continuava a spostarsi non riuscivo né con le mani né con la spugnetta né col pennello a farlo aderire alla pelle cioè proprio lo applicavo e continuava a spostarsi avanti e indietro come se la pelle più che un primer avesse messo sul viso una pellicola che quindi non faceva aderire il trucco ora io non so ma mi spiegate come fa una maschera primer base makeup 5 in 1 e tra i 5 effetti c'è il set makeup o fix the makeup quindi il fissante makeup a non far aderire un prodotto ci ho provato avete visto anche nel video ci ho provato a provare con il fondotinta col correttore a cercare di fissarlo con la cipria no si continuava a spostare è come davvero se ci fosse un qualcosa di sulla pelle un film che non faceva aderire il trucco quindi deducete voi che cosa può essere questo prodotto come come votazione io non ho neanche classificato quindi è un zero completo l'inci non contiene troppi ingredienti negativi mi sembra ok si infatti gli ho dato 3 stelle su 5 dalle bioinci quindi non era neanche malvagissimo rispetto ai primer però fa l'opposto di quello che promette allora effettivamente fa questo effetto blur fa l'effetto idratante fa l'effetto illuminante si ci sono ma non fissa il trucco quindi o lo uso e non mi trucco quindi per l'effetto filtro senza trucco oppure non fa l'effetto io vi dico solo una cosa non spendete 5 euro 90 perché oltretutto la linea della sephora la classica e la la linea classica non è mai scontata quindi non spendete questi soldi prendete un altro primer della sephora che sono molto validi ma questa è un'idea che proprio non ne sono riuscite a far funzionare quindi bocciatissimo allora siamo arrivati a fin del video voglio sapere se l'avete provato e se ha avuto un effetto diverso ed io spero che sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao